Ed eccoci qua finalmente all'ultimo video del giorno, vi faccio vedere quello che mangio Allora, come sempre semplice, scottona questa volta che sto andando a mangiare L'ho condita con olio, pepe nero e paprika, olio comunque extravergine d'oliva E guardate che è top! Come potete vedere appunto, quello che ho aggiunto, olio extravergine d'oliva fresco Paprica, pepe nero, sale Dopodiché si mangia, ovviamente cotta al sangue Appunto non cotta, tipo soliata, soletta Appunto al sangue da trovare tutte le vitamine Solamente appunto due minuti per lato e si mangia Ovviamente come ho detto va cotta al... Non troppo appunto troppo cotta Anche da non perdere comunque i valori nutrizionali Va cotta, io principalmente la mangio al sangue Con questo il video è finito, noi ci vediamo al prossimo video